Giovane campione loco, buongiorno, buonasera, buon tutto quanto, come stai giovane? Cosa hai in mano loco? Allora, ho il poche fondo, fai una chiamata Allora, dimmi, chi devi chiamare loco? Devo chiamare la banca Ah, chiama la banca, sì, cosa devi fare? La banca, allora sì, mi serve, vorrei aprire un mutuo, perché questi pokemon costano una cifra Allora loco, non dica baggianate, allora, ecco qua abbiamo una sfida incredibile Sì? La banca mi sta dicendo di salutare Elena Mattieri Bianca Che sono i ragazzi che l'altra volta hanno indovinato quanto abbiamo speso, giusto? Ok, ok, ok Allora loco, sappi che nella sfida di oggi la differenza sarà che tu avrai pokemon shiny E io avrò pokemon normali Quindi, sei pronto? Vedremo quale sarà la differenza tra quale saranno i miei pokemon forse, quelli normali e quelli shiny Va bene loco? Ma guarda loco, non ti permetterai, anzi adesso mi muto E guarda, ciao, addio, guarda, guarda come spende Allora, no, mi sono buggato, calma Ma cosa sta succedendo? Perché mi sto buggando, smutando destra e sinistra? Ah, ciao, in realtà non sono mutato loco, ti odio, vai via, ciao Allora non è vero che l'odio ragazzi, però oggi andremo a spendere il massimo di quello che possiamo ottenere da questi pokemon Partiamo subito molto molto male perché otteniamo un'abra Ma appunto, oggi in questa sfida ragazzi, noi avremo solo pokemon normali, lui tutti shiny Quindi, quali saranno i più potenti? Quelli shiny e quelli normali? Noi andremo a spendere anche tutto il massimo che possiamo, quindi nelle cifre andremo a spendere quello più costoso Andiamo in quello da 100, abbiamo un Pikachu Mamma ragazzi, siamo pariti malissimo Un doppio Pikachu e Abra abbiamo adesso Qua 20 e qua 5, ok, andiamo a spendere il 20 Arceus livello 400, bello In che senso hai Arceus livello 400, scusami? Tu non fai domande, io l'ho trovato e me lo tengo Non dica bagianate, te lo sei citato, eh loco? No, io ho accesso di livello 800, davvero ho trovato Vabbè, vabbè, guarda, non ti voglio sentire, voglio andare avanti e spendere i miei soldi, guarda, addio Aspetta, scusami, stai dicendo loco? Non ho battuto la pasta No, ok, ok, mi muto, ok, ciao Mi sono mutato quando stava parlando Allora, 50 e 50, andiamo a destra ragazzi questa volta E vediamo qua Garchomp, neanche un pokemon leggendario ragazzi Manco uno Allora, 10 e 100 Ragazzi, mi raccomando qua, ricordatevi quanto stiamo spendendo Perché qua, voi dovete dire anche nei commenti quanti soldi ho speso Groudon, finalmente ragazzi Un pokemon leggendario nella nostra spesa massima Allora, qua, 20 e 50 20 e 50 Loco, 20 e 50, secondo te, cosa faccio? Mamma mia, Marco Cos'hai trovato, giovane? Tu ho fatto solamente un Mewtwo livello 80 shiny Tu in questa sfida qua mi distruggerai Tutti i pokemon shiny sono più forti di quelli non o male Ormai si sa questa cosa Vabbè, me ne vado La bufa là, è una bugia No, no, me ne vado, me ne vado, addio Allora, vediamo qua ragazzi 50 e 20 E' da spendere il nostro 50 Solgaleo, dai, ottimo Sono tutti i pokemon che ragazzi Nell'altra sfida non abbiamo mai ottenuto tecnicamente Quindi ottima 5 e 5 Andiamo da questo lato, dai, per il 5 Tyranitar Dai, ti prego, Pixamondamelo Un livello bello potente però Sto Tyranitar 20 o 10 20 Ovviamente da spendere di più Ricordiamoci questa cosa Marsciado Ottimo, 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 ottimo Poi al prossimo ragazzi 50 o 100 Andiamo nel 100 E poi chiediamo a Loco cosa ha trovato ragazzi Fino ad ora Latios Un pokemon molto interessante Latios Allora, allora Disturbiamolo Loco, come ti sta andando? Sei ancora là in fondo fermo Cosa stai combinando giovane? Molto, molto male Perché ci stai mettendo così tanto signor Eeeh Ma lei ha usato la creativa per sbirciare cosa comprare? No, no L'ho sbirciato Mi son bagato L'avevo già comprato Loco Loco sbircione Loco sbircione Loco sbircione Vabbè, vabbè Cos'hai trovato? Raccontami le tue ultime trovate Vada, vada Mi dica Ho trovato Axel Non ce l'ho Non ce l'ho Ok 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 Tutti i pokemon diversi ai miei Interessante Interessante Molto, molto bene Dimmi Dico io Allora 5 Devi stare calmo Mi sto ancora No, io non sto calmo perché sto Non sto messo male Faccio veramente schifo in questa sfida Guarda Ah davvero? Quindi ho già vinto Ho dei pokemon pessimi Suicune Zapdos Devo controllare un po' le mosse dei miei pokemon E adesso aspetta che ti sbircio perché tu c'hai la poke editor nell'inventario Quindi questo non mi servo? No Criar Locolo Kiss Ok Ora stiamo a posto Dimmi Ecco No Ti ho inclinato tutti i soldi Oh cacchio Allora aspetta ma che tecnica stavi usando prima mi stavi dicendo Ho comprato tutti quelli Quali? No Io quelli più costosi Ah ah Quindi in realtà Mi stavi spiando No non stavo spiando Ho scelto all'inizio del video Ho detto subito i miei campioncini Campione Allora Quindi tu hai speso sicuramente Meno di me Ho vinto Quindi sotto questo punto di vista hai vinto Complimenti Molto interessante come scelta Allora Io adesso ho fatto già la mia squadra in realtà Perché avevo pochissimi pokemon leggendari E quindi praticamente ho solo i miei pokemon leggendari che ho trovato Non è che io possa essere così tanto fortunato Magari posso mettere Ok Sappi che nella mia squadra Un pokemon non è leggendario E anche il mio Ok E anche il mio Allora Ci siamo? Siamo pronti? Sinceramente vorrei andare Vai lancia il tuo pokemon No 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 Tu adesso loco lanci il tuo pokemon Che ti spacco la capoccia E fa bene Vada Tanto la prima battaglia sarà baggata Quindi Uuuuh È vero che tu c'hai la squadra shiny Loco È tutto shiny Ovviamente la prima battaglia è baggata Così Aiuto Cambio pokemon Lancia 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 Vada Vada Fum Guarda come si studia già Ragazzi loco No No loco Allora Loco Allora Non è perché hai pokemon shiny Tu sei Ok google è un mio amico ragazzi Lunala Andiamo Cosa? Come ti permetti? No no Psicospettro ragazzi Buiospettro Assolutamente Tanto non ho pokemon di quel tipo Schifoso Maledetto di un loco Allora Ho già vinto Cosa posso farti? Vediamo Vediamo Sono collunati Allora Allora Non cantare vittoria giovane Non cantare vittoria Perché io Vabbè ragazzi Ma cosa posso fare? No ho fatto una mossa sbagliata Ok No Sto godendo No no tranquillo loco Oggi hai vinto Perché hai pokemon shiny Hai pokemon Sì Sì bravo La prossima volta facciamo così Sì Sì Tutti prendi solo leggendari Sì Sì Io prendo solo pokemon normali Sì va bene loco Dai va bene Guarda oggi non voglio più sentirti parlare Perché mi stai dando fastidio Proviamo a vedere questa mossa qua Mamma quanto poco ti tolgo Dai Mamma mia che potenza questo Oh ma non puoi essere così forte Ma quante foto è questo uno Quante foto No ok va bene No 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 Ok finalmente Mamma mia ragazzi È una roba indecente oggi loco Trova i pokemon più forti shiny Cos'è a fare? E vabbè Poi Poi Qualcos'altro Oltraggio No 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 Come oltraggio Eh Allora Ottimo perché Tu hai messo Un cane Sì 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 Non ti ho messo un cane qualunque sai Ti ho messo un cane che è super efficace contro i tuoi pokemon E Mannaggia Ops Per sbaglio Il tuo bellissimo i dragon Si è ghiacciato Caro buon loco Questo sai cosa vuol dire È che tu sai che purtroppo non puoi fare altre mosse Sai che mi sa che il tuo bellissimo i dragon muore loco Eh sì Mi sa che è appena morto Come hai fatto a ghiacciarmi Come hai fatto a ghiacciarmi scusa Allora sai ho utilizzato una mossa tipo ghiaccio E avessi usato una mossa tipo fuoco ti direi Cavolo di marca hai proprio ragione Ma ho usato una mossa tipo ghiaccio Suicun Non posso dirtelo Secondo me è un tipo fuoco terra Suicun loco Te lo dico proprio così Sincero sincero papale papale E la Ma lei mi mette un pokemon di tipo drago Contro un pokemon No Hai sbagliato un mossa per caso? Chiedo una domanda Non sbaglio mai mossa Non sbaglio mai mossa io loco Tu non mi hai attaccato Bravo loco Bravo che non mi attacchi Ora mi hai attaccato Sono molto arrabbiato con te loco Conto drago eh Dai ragazzi Ma dai ma il mio dragon non aveva mosse Vabbè bravo loco Hai vinto la battaglia Cosa vuol dirti Ah bravo Non ho vinto solo la battaglia Ho vinto anche la guerra Eeeh vabbè Dai esagerato Hai vinto Bravo cosa devo dire loco Guarda Guarda quanti me ne avanzano Eeeh Bolt shiny Eeeh M2 shiny Sì vabbè dai ragazzi I pokemon shiny sono devastantemente più forti Di poco normali Ok grazie 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 loco Aspetta che ti faccio cadere giù Aspetta aspetta No non mi batterai No 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 Sono durissimo Ragazzi Io spero Che questo video qua Incomponere il vostro loco Locais Vi sia piaciuto Noi giovani campioni Ci vediamo in un prossimo video Scegliete uno Devevi trovarci davanti Passate al canale un buon loco Che è un bellissimo ragazzo E noi ci salutiamo Da Marche è tutto Campioni ci vediamo Ciao ciao Ciao